ciao ragazzi sono giovanni coach della sh program training nel video di oggi andremo a vedere alcuni esercizi utili per allenare la parte superiore del nostro corpo perché amici ciclisti ricordate non esistono solo le gambe e inizieremo col primo esercizio che sono i piegamenti sulle braccia quelli che volgarmente si chiamano le chiamate flessioni e andremo a allenare il pettorale il tricipite le spalle e anche il corpo andiamo a vedere una volta visto il primo esercizio che sono i tradizionali piegamenti sulle braccia andiamo aumentare la difficoltà di svolgimento saranno sempre dei piegamenti da seguire sulle nostre braccia ma i piedi saranno messi sulla fitball quindi esercizio che oltre a livello muscolare lavora la parte più progettiva ed equilibrio andiamo a vedere il terzo esercizio che andremo a vedere saranno le trazioni un esercizio fondamentale per l'allenamento in palestra tre tipologie di trazioni esistono quelle prone quelle su pinne quelle neutre quelle che vedremo insieme nel video di oggi sono le sagittrazioni prone quarto e ultimo esercizio che andremo a vedere è probabilmente più complicato della seduta odierna sarà una spinta verso l'alto esercizio per allenare quindi i deltoidi le muscoli muscoli delle spalle soprattutto anche qui andremo a utilizzare la fitball quindi ci metteremo il ginocchio e faremo una spinta verso l'alto andiamo a vedere insieme questa esecuzione oggi siamo andati a vedere ed allenare la parte superiore del nostro corpo nella sua interezza mi raccomando però tenete in considerazione che ogni persona ogni atleta ha delle proprie esigenze e delle proprie problematiche quindi attenzione alla risoluzione e alla scelta degli esercizi il video per oggi è finito se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale youtube e seguiti sui nostri social ciao a tutti da Giovanni ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti